Lorenzo iniziamo subito come sempre con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni oggi è voluto ricordare il giorno di nascita di un grandissimo della musica internazionale stiamo parlando di Jimi Hendrix Bentornati a tutti all'oroscopo musicale e buon lunedì, oggi parleremo veramente di un grande nome, di un grande artista, di un grande chitarrista che ha dato l'innovazione della chitarra elettrica nella musica rock però prima di parlare di lui io voglio augurare questo, tanti auguri nel 1942 nasceva Jimi Hendrix nacque come John Alan Hendrix figlio del 23enne James Alan Hendrix e Lucilla Jeter una ragazza 17enne afroamericana un aneddoto narra che il giovanissimo Hendrix si costruì una specie di rozzo cordofono ricavato da una scatola da sigari sopra cui tese un elastico altra pratica tipica dei poveri chitarristi blues agli esordi il primo strumento del giovane Jimi Hendrix fu una chitarra per destri mani regalata dal padre dopo la morte della mamma imparò velocemente a suonare rovesciandola e questa abitudine caratterizzò tutta la sua carriera artistica nel 1961 fu arrestato dalla polizia di Seattle perché trovato alla guida di un'auto rubata dopo alcuni giorni di detenzione finì in tribunale si trovò quindi a dover scegliere tra un periodo di reclusione e l'arruolamento scelta la seconda opzione venne arruolato il 31 maggio 1961 e successivamente inviata a Fort Ord, California per compiere otto settimane di addestramento la vera grande occasione di entrare a contatto con il dorato mondo del mainstream giunse proprio nel marzo del 1964 quando Hendrix venne reclutato come chitarrista della Isley Brothers Band nel luglio 1965 firmò un accordo contrattuale della durata di due anni con la Sioux Records e il Copa Management decise quindi di trasferirsi al Village seguendo così le orme di colui che da quel momento in poi divenne uno dei suoi fari artistici ed esistenziali Bob Dylan di cui divenne grande ma grande appassionato il 1966 fu l'anno della svolta per Hendrix durante una serata al Chief Club sulla West 21 Street il chitarrista fece la conoscenza di Linda Kate i due strinsero subito amicizia e Linda si prodigò per farli conoscere Henry Logg al manager dei Rally Stones nessuno dei due ricavò impressione positiva dall'incontro e con grande delusione di Hendrix ogni prospettiva di inserimento sfumò la ragazza insistette per presentarla a Charles Chandler all'epoca ancora bassista degli Animals l'incontro stavolta fu fruttuoso il suo modo di suonare la chitarra conquistò l'attenzione di Eric Clapton Jeff Beck e Paul McCartney pensate che la consacrazione avvenne nel 1967 quando suonò il suo cavallo di battaglia con i denti e con la chitarra dietro la schiena e al termine dell'esibizione diede fuoco alla chitarra con del liquido per accendini ancora oggi la sua storia la sua musica vive per merito del fratello Leo Hendrix e del grandissimo chitarrista abruzzese Fulvio Feliciano la sua ragazza tedesca Monica presente nella stanza al momento del fatto racconta di come Hendrix sia stato soffocato da un improvviso rigurgito causato da un cocktail di alcol e tranquillanti non è chiaro se il chitarrista sia morto nottetempo come asserito dalla polizia o se fosse ancora vivo all'arrivo dell'ambulanza ossia soffocato durante il trasporto in ospedale a causa del sopraggiungere di vomito in assenza di un supporto sotto la sua testa dopo la morte le spoglie di Hendrix vennero riportate negli Stati Uniti d'America è sepolta nel Greenwood Memorial Park di Renton, Washington sulla lapide venne fatta incidere oltre al suo nome la sagoma di quella che fu la chitarra simbolo la Fender Stratocaster e anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale vi aspetto in tantissimi domani e per ora vi mando un bacio e un grande ciao da me Silvia Pagni ciao 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 ciao